Fabrizio. Allora Giancarlo, mi inquadri qui per favore, grazie. In attesa dell'atto collegamento prima del break, fallo subito Alessandro se puoi, l'amico Romeo, Romoragno, eccola là, questa è la cifra che gli amici di Pisa Nera Azzurra attraverso la vendita dei calendari hanno raccolto interamente devoluto, se non sbaglio Massimo, aiutami, a Lagbalt, a cerzioni genitori affetti da leucemia e tumore, ogni anno bei soldini che servono alla ricerca ma a comprare anche qualcosa che possa essere utile per garantire alle famiglie lontane da Pisa di poter stare vicino ai suoi bambini in quel momento ammalati, stando nella casa lì vicino al CNR all'isola di Girasoli. Quindi ancora quasi 2.500 euro, pensate con i calendari venduti a 5 euro l'uno sono riusciti a tirare fuori questa cifra che secondo me è importantissima, quindi bravo Romeo, bravo Franceschino, bravo Albert, bravi tutti, bravo Buschetto, bravi Gagliardi, bravi tutti, complimenti veramente ve lo dico di cuore e quindi a Lagbalt, associazione a noi molto cara, vero Massimo? E beh certamente un fiore all'occhiello della nostra città a fianco di chi soffre. Allora anche te col tuo giornale, di te in particolare sei sempre stato molto attento e dato molto spazio, se fa bene continua, perché è giusto fare noi che facciamo un mestiere pubblico fare qualcosa che possa dare qualche...